Ciao e benvenuti a questo video delle 5 in cui volevo trattare un argomento abbastanza specifico che è un po' anche ciclico, ogni tanto mi torna tra i commenti oppure lo trovo discusso sui vari social network ed è il giocatore alfa. Allora andiamo con ordine, parliamo di giochi cooperativi dove tutti quanti intorno al tavolo sono alleati, fanno parte di una medesima squadra e devono giocare tutti contro il gioco diciamo quindi la scatola stessa, le regole, le meccaniche del gioco faranno in modo di far perdere i giocatori ci sono alcune condizioni di sconfitta, solitamente sono più condizioni di sconfitta e solitamente c'è una condizione di vittoria per arrivare all'obiettivo, in quel caso si dice che siamo tutti vittoriosi a volte si può arrivare alla vittoria anche se un giocatore per dire ha perso la vita del proprio personaggio quindi è uscito dal gioco, l'importante è che tutti i giocatori vincano oppure tutti insieme si perda che cos'è il giocatore alfa? Diciamo che in un mondo ideale tutti i giocatori equamente dovranno contribuire all'esito della partita quindi ognuno darà le sue opinioni, ci si confronta, si discute, ognuno decide la sua mossa in relazione agli altri quindi si lavora come un team, quindi le mosse vengono decise insieme può capitare però che ci sia qualcuno al tavolo che per indole personale o perché semplicemente conosce molto meglio il gioco voglia prendere tutte le decisioni per gli altri in maniera attiva, diciamo quelli un po' più irruenti in maniera attiva dicono ok tu fai questo, spostati di qua, spostati di là alcuni lo fanno in maniera un po' meno irruenta ma semplicemente dicendo eh però facendo questa cosa sarebbe meglio far così oppure aspetta se facciamo questo e poi questo e poi questo ti mettono davanti tutte le varie opzioni e quindi diciamo che di fatto la tua scelta non può che essere quella in altri casi il giocatore alfa potrebbe essere in qualche modo inconscio, diciamo involontario perché è basato semplicemente sulla sua capacità magari analitica siccome sapete che è una persona che sa fare molto bene i conti che sa calcolare molto bene tutto l'albero delle possibilità quando dice ragazzi io forse mi sposterei di qua di fatto tutti dicono ok va bene spostiamoci di qua ci fidiamo perché lui è quello che le sa oppure semplicemente ha fatto 200 partite al gioco se ci dobbiamo spostare di là è perché bisogna farlo quindi qual è il problema? che un sacco di persone dicono eh però quando c'è il giocatore alfa che decide al tavolo nessuno si diverte verissimo e su questo mi trovate concordi quando c'è un giocatore alfa non si diverte nessuno a parte il giocatore alfa stesso e in alcuni casi vi dico magari neanche lui lui se è un giocatore alfa inconscio come vi dicevo prima magari neanche lui si sta divertendo ma quello che non condivido è quando si dice che è l'autore del gioco che deve risolvere il problema del giocatore alfa o ancora che nelle recensioni si dica che non c'è nessun modo per mitigare il giocatore alfa come se fosse un punto a sfavore del gioco stesso quindi i giochi diciamo il game designer devono in qualche modo prevedere un modo per annullare o almeno mitigare l'effetto del giocatore alfa su questo argomento vi faccio vedere anche un tweet di Jason Moore che ormai parliamo di marzo dell'anno scorso che diceva proprio le stesse cose diciamo che lui dice si dà la colpa sempre al designer per il giocatore alfa ma il designer non è responsabile la cosa migliore è dire hey Terry non puoi venire settimana prossima supponendo che il giocatore alfa si chiami Terry allora lui la mette giù molto spesso ma in realtà la mette giù anche come mi è capitato di metterla giù io in qualche mio commento qualcuno me l'ha fatto notare in alcuni giochi del tipo eh vabbè ma tutte le carte sono scoperte tutto in tavola quindi non c'è il rischio del giocatore alfa la mia risposta è sempre stata no se non lo inviti so che sembra brutto però è un problema di cerchio magico che deve essere risolto all'esterno del cerchio magico cioè all'interno del cerchio magico non c'è nessun meccanismo per limitare il giocatore alfa perfetto ma non è un problema del designer è un problema di chi non si sa comportare al tavolo dal mio punto di vista un giocatore alfa è uguale a un giocatore che in un competitivo solo perché te l'ha spiegato ti ha appena spiegato magari a giocare a ticket to ride e ti dice sì allora prendi però queste due carte verdi prendile perché così ne hai già una in mano così vai a tre giù su quante ne hai fammi vedere ah tre carte ok allora la prossima volta tu fai questa tratta qua così quando trovi la seconda gialla fai anche questa e puoi completare il tuo biglietto bene adesso no ma non metterlo lì guarda che se fai quest'altra tratta tu dovresti in realtà prendere queste ci sono quei giocatori che quando vi spiegano il gioco vi spiegano anche come giocare oppure fate la mossa e dici guarda eh però se tu fai così così e così vedi hai giocato le stesse carte ma invece di 5 punti ne stai facendo 7 vedi quindi fanne 7 no segnati 7 punti è inutile farne 5 oppure sei sicuro guarda che se giochi così vale 2 punti per 3 turni ma ci sono delle carte dopo che escono che vanno insomma anche quello dal mio punto di vista è un giocatore alfa in quel caso perché non è un problema nel senso analizziamo il problema dal punto di vista più grande più sociale se è un problema il giocatore alfa nei cooperativi secondo me lo è anche nei giochi competitivi e nei giochi competitivi ovviamente voi gli direste oh stai zitto voglio giocare io perfetto questa stessa frustrazione secondo me deve essere portata nei giochi cooperativi si dice un stai zitto ci devo pensare io se è un vostro amico lo capirà nel senso proprio perché sia amici secondo me si può parlare di tutto e quindi si può dire stai zitto vogliamo ognuno giocare per sé oppure basta solo inserire la regola non scritta di non si può parlare cioè se proprio non volete neanche confrontarvi ma secondo me il bello è proprio confrontarsi allora non parliamo stiamo tutti zitti anche se è tutto in tavolo ognuno nel suo turno fa le sue cose quindi è molto semplice limitarlo viceversa se questa persona in realtà non è in grado di limitarsi semplicemente gli si spiega che sta rovinando il gioco agli altri si può non invitare più a giocare i cooperativi cioè non vuol dire tagliarlo fuori dalla propria vita significa che non ha l'atteggiamento corretto ma questo atteggiamento potrebbe rivelarsi come vi ho detto in tante altre sue espressioni e ripeto se è vostro amico di fatto lo conoscete già e quindi state accettando cioè se lo accettate al tavolo state già accettando che è questo suo impatto quindi lamentarsi con il game designer è un po' se volete la metto giù un po' spessa come dire io non sono in grado fallo tu guarda lui sta facendo il cattivo sgridalo tu perché così io non faccio brutta figura così non creo tensione invece secondo me proprio perché si è tutti giocatori ci si vuole tutti divertire siamo tutti sulla stessa barca prendiamo questa tensione facciamone esplodere il non detto a volte è più difficile del detto sto facendo un discorso più che di giochi da tavolo forse più psicologico da questo punto di vista ma secondo me è molto semplice quando si vede in alcuni cooperativi l'obbligo di trarre le carte in mano secondo me c'è qualcosa che non funziona nel senso non è quello il limitare il giocatore alfa perché a me è capitato anche di giocare delle partite da tapume in cui il giocatore mi diceva scusa ma tu hai in mano eh? visto che non si può parlare di carte però la giochi cioè se io gioco questa tu dopo e tutte queste domande di fatto ti portano anche se non sta vedendo fisicamente le tue carte ti sta spiegando come devi giocare se non giochi in quel modo o si sbaglia poi sbufferà anche il solo sbuffare tipo eh vabbè così abbiamo perso è un giudizio la giocata dopo la farai con uno spirito diverso comunque vorrai la sua approvazione perché non vuoi che lui si stia arrabbiando in questo modo eppure lì le carte sono tutte segrete cosa dobbiamo fare? giocare le carte nascoste in maniera coperta poi mescolare in modo che non si sappia chi ha giocato quella carta insomma ragazzi io sono d'accordo con Jason Moore non diamo la colpa ai game designer se poi il game designer vuole inserire qualcosa che possa limitare il giocatore alfa ci può stare ma se avete un problema con il giocatore alfa ce l'avete come gruppo non come gioco quindi risolvetelo come gruppo e vi posso assicurare che tutto sarà più sereno guardate mi sono tolto un peso l'ho detto più volte non ho mai nascosto questa mia posizione ma ogni tanto è ciclica questa cosa stanno tornando di moda un po' tanti giochi cooperative e andrò si discute di questa cosa so che qualcuno di voi non è d'accordo quindi volentieri discuto con voi nel senso sono pronto a sentire le vostre opinioni i vostri pareri in alcuni casi potrebbe non essere risolvibile solamente parlandone vediamolo insieme sono qua per voi per confrontarmi insieme siamo giocatori parliamo da giocatori bene direi che ho finito come sempre vi invito a lasciarmi un vostro commento a iscrivermi ai miei canali social per rimanere aggiornato su tutto iscrivetevi pure anche al canale qua su youtube per sapere quando escono questi video anche un po' estemporanei in descrizione trovate dei link per acquistare i giochi acquistare magliette come questa o sostenermi direttamente su tp per aiutarmi a far progredire il canale e farlo diventare sempre più strabellissimo bene vi saluto ciao e alla prossima